La crisi sono loro, punto, devono andare via, tutti, destra, sinistra, centro, sopra e sotto. Bisogna che i ragazzi di questa generazione dai 18 ai 35 anni si incazzino, stanno pagando contributi di pensioni per questi qui che vanno in pensione a 20, 30, 10, 15 mila euro al mese. Bisogna che si comincino a incazzare dove hai una laurea, la butti nel cesso, i mutui, le case, un futuro, gliel'abbiamo tolte queste cose qua. Adesso bisogna incidere sulle pensioni. Non può un ragazzo pagare la pensione a gente che va dopo due legislature in pensione con 10 mila euro al mese e lui non la prenderà mai. Questa è una rivoluzione generazionale. Siamo falliti, siamo falliti. Non è mai fallita l'Europa? Sta fallendo la Germania dal punto di vista del principio dell'euro, della solidarietà, della filosofia, della cultura europea. È solo una valuta, sono solo banche e adesso si stanno preparando. In Italia chi? Gli ex banchieri. I banchieri fanno... oppure Monti, presidente della Bocconi, che fa in televisione a dire c'è il debito. Ma dove sei stato per 5 anni? Su Saturno? Dove cazzo? Sei presidente della più grande facoltà di economia del diritto. C'è il debito, ha detto. Bisogna adesso... Qui la rivoluzione non la fa la magistratura o i banchieri, la fanno i cittadini. Però è molto che lo dici, in realtà questo non si è mai verificato ancora. È molto, sono due anni. Due anni? Beh, c'è gente che ripete la stessa cosa da 40. Adesso, quando gli ospedali non potranno più pagare alle case farmaceutiche, i farmaci salvavita negli ospedali, chiudono. Quando le scuole non potranno più permettersi, li privatizzano. Stiamo andando verso questo sogno della privatizzazione, della scomparsa del welfare, che è la più grande coglionata del mondo, perché il welfare è un linguaggio. Cioè, noi siamo abituati a avere... Siamo nati con la scuola pubblica, la sanità pubblica. Ci sembra normale, ma sono lotte di cento anni dei nostri nonni. Non te li puoi far portare via da questi coglioni a debito, che fanno i project financing, che fanno delle congetture dell'economia senza una lira. La politica è semplice. Semplice. Due righe. Se hai i soldi fai questo, se non ce l'hai non lo fai. È semplice. Ma i soldi non ci sono più adesso, quindi non fai più niente. I soldi ci sono. Allora, cominciamo a prendere un miliardo di euro di rimborsi elettorali ai partiti. Un miliardo di euro. Cominciamo a prendere un altro miliardo di euro ai finanziamenti ai tuoi giornali, ai giornali. Non so di che giornali. All'editoria. Un miliardo di euro. Sono due miliardi perché non ci sono. Invece troviamo i soldi a debito per la TAV, per il ponte, per queste strutture che non servono a niente. Prendiamo i soldi della TAV e li investiamo in cultura, nella scuola, nell'università, nella ricerca. 22 miliardi li hanno trovati per fare un cazzo di buco che non serve a nessuno. Non ci sono i soldi. Quindi devono andare via. Qui è finita un'epoca. È quella del debito. C'è il debito del mondo, non nostro. L'economia sul debito, sul nulla, è finita.